Ben trovato, per questa prima tua parte di intervento hai bisogno del nostro aiuto. Ma sì, io vi chiedevo di aspettarmi qui un secondo perché per giocare con qualcuno volevo soltanto chiederti di scegliere tu una persona, questa persona non la chiamerò qui sul palco davanti a tutti, può rimanere tranquillamente al suo posto, dovrà solo scegliere un numero, tutto qua, però voglio che decidi tu per me. Io tra l'altro sono bravissimo a vedere come si fa, allora un volontario, alzate la mano, vedi come sono bravo, no, ora giù in fondo no, qualcuno, loro no, come a scuola, no, io no. Eh lo so, Raffaello stai spaventando il nostro pubblico. Ma no, è una cosa semplicissima, allora voglio andare di qua, posso? Posso? No, scendo eh, com'è il nome? Eleonora. Eleonora, ha fatto il viso rosso? Ok. Va bene, può andar bene? Va benissimo, ciao, Eleonora hai detto? Tu hai mai visto prima quest'uomo? No. No, sei sicura? Sì. Non è che ti abbiamo scelto apposta perché? No. Ah ok, ci siamo. Sembra molto contenta del fatto di non avermi mai visto. Proprio, eh, sì, sì. Vabbè, allora Eleonora, molto semplicemente, io ho appena disegnato nel mio block notice un cerchio, vorrei che tu pensassi tra un secondo ad un numero qualsiasi, però più alto di 20, più basso di 50, tu, non me lo, no, non le dare il microfono, sennò questa lo dice, lo deve solo pensare adesso, ok? Se non era facile, mi riusciva a cambiare. Decidi tu, un numero liberamente, se poi trovo che hai scritto 14, ti licenzio, deve essere più alto di 20, più basso di 50. Ci siamo? Va bene? Lo scegli quando l'hai deciso, lo scrivi qui al centro del cerchio e poi questo ti rimane a te, lo recupero più tardi. Poi più tardi mi dirò, ti dirò, ti chiederò di dirmi qual è il numero che hai scelto, ma per il momento non lo voglio sapere, te lo chiederò. Tutto qua, va bene? Tra 20 e 50, grazie Eleonora, e grazie anche a Raffaello e grazie anche a Sara. Allora io ho fatto adesso, sono a posto, il mio compito. A posto, a posto. Avete bisogno di noi? No, potete andare, ci vediamo dopo. Grazie mille, ciao, ciao. Ciao Roma, come va? Fatevi sentire. Wow, ragazzi, io sono veramente, ho quasi le lacrime agli occhi per il pubblico che c'è qua. Ci sono anche dei romagnoli, sentivo prima, vero? Io sono di Forlì, ci siete? Eccoli là, eccoli là. Va bene, ho poco tempo, quindi devo andare veloce. Il pittore e poeta Paul Klee, che molti conoscono come Paul Klee, pronunciando il suo nome all'inglese, anche se lui non era inglese, ma era tedesco di madre svizzera. Beh, Paul Klee ha scritto questo. L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non lo è. Ho scelto questa introduzione perché è esattamente di questo che io vi voglio parlare oggi, dell'invisibile. E per farlo vorrei raccontarvi una storia. È una storia che io ho incontrato quando ero bambino, se devo dire la verità, e quindi è possibile che alcuni tra di voi la conoscano già, alcuni ma probabilmente non tutti, sicuramente non tutti. È una storia che viene da lontano, dal Medio Oriente, e racconta di un uomo che morendo lascia la propria eredità ai suoi tre figli e gli lascia appunto una dote di 17 cammelli. Insieme a questi 17 cammelli di dote gli lascia naturalmente anche un testamento, nel quale scrive le proprie volontà e spiega ai figli come vorrebbe ripartire questi cammelli. E allora spiega che vuole dare al primo figlio, al figlio primogenito, quello più grande, la metà dei suoi 17 cammelli. Al secondo figlio un terzo dei 17 cammelli e all'ultimo figlio un nono dei suoi 17 cammelli. Questo è il primo figlio, vediamo se arriva il secondo, un terzo, e all'ultimo figlio, dicevo appunto, un nono. I figli parlano, discutono, litigano, si azzuffano per settimane perché non riescono a trovare il modo di poter dividere questi 17 cammelli in parti eque e rispettando la volontà del padre. 17 non è divisibile per due, 17 non è divisibile per tre, 17 non è nemmeno divisibile per nove, in effetti 17 è un numero primo. E allora alla fine, dopo aver discusso per giorni, si rendono conto che forse l'unica possibilità è quella di andare a parlare con il saggio del villaggio. Il saggio del villaggio, dopo aver ascoltato la loro storia, dice ragazzi, in effetti mi dispiace ma nemmeno io saprei come dividere questi cammelli seguendo la volontà di vostro padre, quindi non trovo una soluzione nemmeno io, però io ho un cammello, se volete potete prenderlo. Allora i figli prendono il cammello del saggio del villaggio, lo portano a casa e naturalmente si rendono conto subito che a quel punto hanno 18 cammelli. E quindi il primo figlio ne prende la metà, divide 18 per due fa nove e prende nove cammelli per sé. Il secondo figlio divide 18 per tre e ne ottiene sei e quella sarà la sua parte. L'ultimo figlio, il più piccolo, divide 18 per nove e ne ottiene due. Tutti sono perfettamente soddisfatti. Ciascun figlio ha avuto esattamente la parte che sperava e che doveva avere. Soltanto che nove più sei fa quindici, più due fa diciassette. «Avanza un cammello che i figli prendono e riportano di buon grado al saggio del villaggio». Allora, grazie, ma andiamo veloci. Qual è la morale di questa storia che nasce un po' come una sorta di piccolo enigma matematico, di piccolo paradosso matematico? C'è una morale? Beh, forse la morale è che il valore aggiunto che noi mettiamo in campo alla fine ci viene restituito. Ognuno di noi, ciascuno di noi, ogni giorno è chiamato ad affrontare problemi, conflitti, crisi, scontri, potremmo allargare sempre di più. Insomma, tutte situazioni per le quali varrebbe la pena di chiedersi dove e come potrei materializzare quel benedetto diciottesimo cammello che mi aiuterebbe a risolvere la situazione. E allora, per rispondere a questa domanda, io vorrei raccontarvi un'altra storia. Questa non viene da lontano, infatti parla del nostro paese, parla dell'Italia. L'Italia ha tante risorse assolutamente straordinarie, io ne citerò alcune a mo' di esempio. La prima risorsa che mi è venuta in mente, possiamo immaginarla così, come una torta in un grafico, questa torta potrebbe rappresentare la bellezza naturale del nostro paese. Paesaggi, scorci, vedute, insomma tutto ciò che rende l'Italia, che lo fa chiamare, la fa chiamare il bel paese, la bellezza naturale. Come vedete da questa torta manca già una fetta, basti pensare, diciamo che è una fetta che ci siamo un po' giocati noi con la nostra stessa incuria, basti pensare all'inquinamento del mare, dei nostri fiumi, all'abbruttimento di coste e paesaggi attraverso, non so, la speculazione edilizia, insomma gli esempi sarebbero tanti. C'è però una seconda risorsa, eccola qua, una seconda torta e questa non l'abbiamo trovata così per caso, ce la siamo costruita nell'arco dei secoli. Questa seconda torta potrebbe rappresentare il patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Sto pensando a tutti i musei che abbiamo in Italia, ai monumenti, all'architettura delle nostre città, per non parlare del patrimonio musicale e letterario che abbiamo nel nostro paese. Come vedete però anche da questa torta manca una piccola fetta e forse perché io vivo di quel mondo lì, arte, cultura e spettacolo, io temo che questa fetta mancante continuerà ad allargarsi finché noi continueremo a pensare alla cultura come ad un orpello, quasi come ad un costo accessorio che dovremmo cercare di anno in anno di tagliare, di ridurre perché la cultura alla fine dei conti fa parte della filosofia astratta. Ora mi chiedo, c'è un terzo elemento, una terza risorsa che potremmo provare a triangolare con queste prime due torte, naturalmente c'è, eccola qua, e questa potremmo chiamarla la torta della creatività italiana perché rappresenta il nostro stesso essere italiani nel senso migliore del termine, non certo quello di fare i furbetti, ma il nostro ottimismo, il saper vivere bene, il buon vivere italiano, l'originalità, la creatività che noi abbiamo. Sentivo prima parlare di made in Italy, il made in Italy che se ne dica è un brand, un vero e proprio brand riconosciuto e invidiato in tutto il mondo come sinonimo di originalità, creatività, buon gusto e anche stile, direi. Allora io poco fa parlavo di triangolare questi elementi, no? Allora se vi chiedessi adesso, dov'è il triangolo in questa immagine? Voi sapreste dirmelo, sapreste indicarmelo? No, ovviamente no, vi risparmio la fatica, il triangolo per il momento è ancora invisibile. Questo perché la vostra mente si sta focalizzando sui singoli elementi, sugli elementi in sé. Se invece provassimo a considerare non solo queste tre torte, queste tre risorse singolarmente, ma a considerare anche lo spazio circostante, allora forse potremmo provare a riordinare queste nostre risorse, riordinandole, cercando di materializzare appunto questo triangolo famoso di cui sto parlando. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a vederlo, ad averlo. Ora le torte si sono un po' rimpicciolite per problemi tecnici, per farle stare dentro allo schermo, ma la forma è esattamente la stessa. Io le ho soltanto ridistribuite nell'ordine. E vedete come appunto al centro di queste tre torte adesso si vede benissimo questo triangolo bianco, no? Ma che cos'è questo triangolo? Questo triangolo è un po' come il diciottesimo cammello, è il valore aggiunto, è l'invisibile diventato visibile grazie al modo in cui abbiamo riordinato le nostre stesse risorse. Fare questo, cercare triangoli invisibili come questo e diciottesimi cammelli, che cos'è? Beh, è prima di tutto un atto creativo. Prima parlavo della creatività italiana, no? E qui ci può davvero aiutare. È un atto creativo perché ci vuole un pochino di immaginazione per trovare il modo di riorganizzare quelle torte per far saltare fuori quel triangolo, no? Un atto creativo che però viene agevolato se e soltanto se adottiamo un modello di pensiero ecologico che non tiene conto soltanto dei singoli elementi presi in sé, con i loro interessi specifici, con i loro profitti immediati, ma tiene conto anche e soprattutto del sistema. Il sistema all'interno del quale vivono ed esistono le singole parti, le nostre stesse risorse. Ora, c'è un altro diciottesimo cammello che c'è ma non si vede e di cui vi vorrei parlare anche per così giocare velocemente. Eleonora, arrivo da te, mi serve un pennarello. Tu hai scritto, hai deciso un numero. Allora, io qua mi ero preparato una griglia. Vediamo se riesco ad essere rapido. Eleonora, ad alta voce, mi dici qual è il numero che hai scelto? 30, preciso 30. Eleonora è stata scelta da Raffaello, non ci conosciamo, eccetera. Hai detto 30. Ora, se qualcuno ha l'orologio, io non ce l'ho, tenete il tempo e vedete un po' come me la cavo, ok? Quanto tempo ci metto. Potete partire col timer se volete. Quanto tempo ci metto, io non ce l'ho, tenete il tempo e vedete un po' come me la cavo, ok? Quanto tempo ci metto, io non ce l'ho. E voilà, stop al tempo, stop alle telefonate. Quanto ci avrò messo, un minutino? 60 secondi più o meno. Eleonora, tu vedi il tuo numero, oh ne manca uno, ne manca uno ancora. Pensavo di averlo scritto, eccolo qua. L'avevo solo pensato. Eleonora, tra i numeri che ho scritto, tu vedi il numero che mi avevi detto poco fa? Ovviamente no, anche perché sono tutti numeri più bassi di 20, io ti avevo chiesto di decidere un numero più alto, no? Però vi dicevo, un cammello che c'è ma non si vede. Anche in questo caso il tuo numero c'è, anche se non si vede in apparenza. Volete vederlo? L'avete già visto? Proviamo. Da dove partiamo? Facciamo le colonne. 9 più 8 fa 17, più 3 fa 20, più 10 fa? 10 più, 12 più 5 fa 17, 19 più 11. 10, 17 più 9 più 4. Ultima colonna, 12 più 13 più 6 fa 19 e 11 fa ancora una volta 30. E queste sono le colonne. Ci sono anche le righe però, cambiamo colore. 10 più 11 fa 21, più 8 fa 29 e 1, 30. 9 più 2 fa 11, più 12 più 7, 30 un'altra volta. Terza riga, 12 più 3 fa 15, più 6 fa 21, più 9 fa appunto 30. 10 più 5 più 4 più 11, ancora una volta, fa? Thank you! Velocità di pensiero, ma non è finita, non è finita, scusate. Non è finita, in realtà potremmo sommare anche le diagonali. Prendo un altro colore, 8 più 2 fa 10, 19 più 11 è 30 un'altra volta. L'altra diagonale, 1 più 7 fa 8, più 12 fa esattamente 22, scusate, 8 più 12 fa 20, più 10 fa 30. Non ho finito, proviamo a prendere gli angoli. Questo angolino qua, questo angolino qua, questo angolino qua e questo angolino qua. 11 più 10 più 1 più 8 fa? Grazie! Non ho finito, scusate, ce n'è ancora, ce n'è ancora in questa specie di matrix, no? Per gli appassionati di sudoku. Allora, proviamo a prendere questo quadrato qui. 8 e 2, 10 più 11, 21 più 9 fa 30. Questo quadrato qua, 7 e 1, 8 più 12 fa 20, più 10 fa 30. 3 più 12 più 5 più 10 fa 30. 9 più 6 fa 15, più 4 fa 19, più 11 fa, ancora una volta, 30. E infine, e poi davvero ho finito, anche il quadrato centrale. 7, 2, 9, 9, 9, 18, più 12 fa... Oh! Grazie! Arriviamo! Emisfero destro e emisfero sinistro che girano velocemente e contemporaneamente. Rapidità, mettiamola così, rapidità di calcolo. Allora, vi dicevo un cammello, insomma, un cammello che c'è ma non si vede e adesso l'abbiamo appunto trovato. Concludendo il mio discorso, abbiamo perso qualche minuto prima con Raffaello, Alessandro, perdonami se sforo di un minuto, però vorrei concludere. E allora, lasciatemi dire soltanto questo, che io da mentalista sono affascinato da come il pensiero sia in grado di trasformare la realtà. Voi sapete meglio di me che il pensiero è la prima e fondamentale forma di energia. Così come noi non vediamo il vento, ma ne riconosciamo gli effetti, anche il pensiero è qualcosa di invisibile, di assolutamente impalpabile, ma in grado di produrre risultati assolutamente concreti. Allo stesso modo il pensiero ha questa qualità magica, no, che si rinnova e si rigenera nel momento stesso in cui noi lo mettiamo in campo, cioè lo distribuiamo e lo diffondiamo. E quindi il pensiero sicuramente è quel tipo di valore aggiunto di cui parlavo prima, che una volta messo in campo, alla fine dei conti ci torna indietro, rinnovato e rigenerato. Qual è però il problema del pensiero? Che anche il pensiero deve essere orientato. Allora vi spiego cosa intendo. Se ci immaginiamo sul bordo di una spiaggia, no, a guardare l'orizzonte del mare, vedremo questo orizzonte come una lunga, lunga, lunga linea retta. Siamo abituati a pensare all'orizzonte come, metaforicamente parlando, gli obiettivi, i nostri obiettivi da raggiungere. Qual è l'insidia però in questa immagine mentale? E l'insidia sta nel fatto che più noi ci muoviamo verso l'orizzonte e più l'orizzonte si sposta. Allora noi ci muoviamo un altro po' e l'orizzonte si sposta ancora. Perché di fatto l'orizzonte è qualche cosa di irraggiungibile per sua natura. E questo ci illude a pensare che sia possibile una crescita infinita. No? Invece questa è in effetti un'illusione che ci spinge a produrre di più, consumare di più e poi produrre ancora di più all'infinito, appunto. Però se noi tornassimo in quella spiaggia e immaginassimo di poterci alzare, improvvisamente cominciare così a volare verso l'alto, lasciandoci la sabbia, il suolo, la terra sotto i piedi, laggiù lontano, sempre più piccola, mentre noi ci alziamo, ecco scopriremo che mentre ci solleviamo verso l'alto e cioè eleviamo il nostro livello di pensiero, quella stessa linea retta dell'orizzonte che pareva estendersi all'infinito, comincia a piegarsi. Si piega sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a diventare un cerchio, una sfera, la terra. Vediamo se recupero il mio clicker. Eccolo qua. Questa roba qua. Questo dovrebbe ricordarci che le nostre risorse non sono infinite, ma sono appunto limitate. C'è un limite nell'acqua, c'è un limite anche nell'aria e quindi c'è un limite anche alla crescita. Crescita in senso come produrre all'infinito, produrre sempre di più, sempre di più. Quello che non ha limite perché è infinito, siamo noi. La nostra capacità di pensare, di trovare soluzioni, di cambiare, di rinnovarci e cambiare. Infatti nell'esempio metaforico che ho fatto poco fa, a cambiare non è stata davvero la linea retta dell'orizzonte. A cambiare siamo stati noi, la nostra prospettiva, il modo e la posizione da cui guardiamo le cose. Ora io ho cominciato con una citazione e chiudo con un'altra citazione. Eliel Sarinen, nome impronunciabile, Eliel Sarinen è un architetto finlandese vissuto tra il 1800 e il 1900. Lui ha detto una cosa molto semplice, però secondo me anche importante. Ha scritto, ogni volta che progetti qualcosa, qualsiasi cosa sia, ricordati di tenere conto e considerare il contesto più ampio. Ora io credo che questo sia non solo in un certo senso la summa del pensiero ecologico, ma che possa essere anche la soluzione ai conflitti, alle crisi, agli scontri, ma anche alle mediazioni e alle negoziazioni che ci troviamo ad affrontare. Eliel Sarinen parlava di una sedia dentro una stanza, una stanza dentro la casa, la casa dentro un ambiente, l'ambiente dentro al progetto di una città. Cioè tenere conto che il nostro sistema è fatto di ecosistemi concentrici, l'ultimo del quale, finito, circoscritto, è il nostro stesso pianeta. E quindi il modo per visualizzare triangoli invisibili, per materializzare i diciottesimi cammelli che ci servono, è quello di cambiare prospettiva e avere appunto una visione globale. Grazie. Ciao Roma! Grazie mille! Grazie mille!